A seguito dell'avvio della raccolta differenziata porta a porta nel quartiere Vazieri di Campobasso il corpo della polizia municipale coordinato dal comandante Luigi Greco sta intensificando le attività di monitoraggio del territorio finalizzate a contrastare il fenomeno del conferimento illecito dei rifiuti. Nel mirino delle pattuglie impegnate anche con agenti in borghese soprattutto il contrasto del fenomeno della migrazione dei rifiuti che sancisce l'obbligo per tutti i cittadini di servirsi del sistema di raccolta vigente presso il proprio indirizzo di casa oltre al divieto di conferimento in città per chi proviene dai comuni limitrofi. Negli ultimi 15 giorni sono state elevate circa 120 sanzioni sia nei confronti di quei cittadini provenienti da fuori comuni e colte in fragranza nello sversare rifiuti sul territorio cittadino sia nei confronti di coloro che già serviti presso la loro abitazione del servizio porta a porta hanno preferito abbandonare i rifiuti nei cassonetti di altre zone della città. Le attività di monitoraggio fanno sapere dal comune continueranno intensificandosi ulteriormente anche nelle prossime settimane ancora di più in vista dell'ulteriore step previsto nel mese di agosto e che vedrà partire il servizio porta a porta nella zona Vazieri 2 con la conseguente rimozione dei vecchi cassonetti stradali. La zona di Vazieri 2 include tra le altre le vie Principe di Piemonte, Conte Rosso e via De Pretis. L'obiettivo dell'attività di controllo e sanzionamento evidenziano dal municipio contrariamente a quanto qualcuno possa immaginare non è certo quello di fare cassa per l'amministrazione bensì adottare adeguati strumenti di deterrenza affinché ogni cittadino comprenda l'importanza di differenziare correttamente e serenamente i rifiuti ad esclusiva tutela dell'ambiente e a vantaggio del decoro dei quartieri e dell'intera città.